Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi dell'approccio che si deve avere allo studio della parola di Dio, della Bibbia, un approccio che deve essere fatto seguendo due principi particolari, due principi che sono importanti, magari non ci sono solo questi principi, però questi due sono fondamentali, questi due principi sono la somma della parola e verità, il primo, e l'altro è la letteralità della parola, cioè attenersi al significato letterale della parola. Sono due principi importantissimi che adesso andremo ad esaminare. Perché è importante, perché mi è venuto in cuore di parlare di questo argomento? Perché lo studio della parola di Dio, nello studio della parola di Dio, alcuni cosa fanno? Si inventano dei modi per poter far dire alla parola quello che loro vogliono, cioè i falsi dottori, i falsi dottori, i falsi apostoli, i falsi profeti, cosa fanno? Utilizzano la parola per fargli dire quello che vogliono loro secondo i loro piaceri, secondo la loro volontà, che magari dicono cose, essendo falsi dottori, dicono cose che non sono conformi alla volontà di Dio, ma sono cose che sono conformi alla volontà della persona che parla o dell'organizzazione o comunque che tendono ad annullare i comandamenti di Dio e la volontà di Dio. Quindi per difendersi da queste cose, per difendersi dalle false interpretazioni, dalle false rivelazioni sulle Sacre Scritture, se si utilizza questi due principi, si riesce così a respingere, diciamo, a rigettare molte cose. Chiaro che questo non è che è sufficiente, perché la cosa più importante alla fine è il Signore, no? È la guida di Dio mediante il suo Spirito Santo. Però nello studio della parola, attenendoci a questi due principi, che sono la somma della parola verità e la letteralità, attenersi al significato letterale di quello che è scritto, se si seguono questi due principi, difficilmente si esce, diciamo, fuori dalla volontà di Dio. Con una misura di sapienza e di intelligenza e di intendimento che Dio dà, si riesce comunque a comprendere quale sia la volontà di Dio, in maniera che non ci si allontani dal significato che Dio voleva dare con quelle parole. Perché qual è l'obiettivo nostro? Nello studiare la parola. L'obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di conoscere qual è la volontà di Dio, per discernere quali sono le dottrine, la sana dottrina, quali sono le verità dottrinali di Dio. Perché imparando bene ciò che è scritto nella parola, noi cosa facciamo? Impariamo anche noi a discernere ciò che è bene da ciò che è male. Quindi discernendo queste cose, conoscendo la volontà di Dio, la perfetta volontà di Dio attraverso la parola, se noi riusciamo a discernere il bene dal male, noi attenendoci al bene e rigettando il male non facciamo altro che piacere a Dio, anche nella nostra condotta, nella nostra mente, nei nostri sentimenti. Quindi è importantissimo il modo con cui noi approcciamo a studiare la parola di Dio. Vi dico anche che non servono i titoli umani, non c'è bisogno di studiare le lingue originali, il greco, l'ebraico, per conoscere la volontà di Dio. Quelle lingue le hanno studiate quelli che ci hanno tradotto la Bibbia. Vero è che qualche problema c'è e rimane nelle varie traduzioni della Bibbia, ma non sono cose così oscure o grandi che possono distruggere o cambiare completamente la verità della parola di Dio. Quindi ci si può lo stesso arrivare attraverso l'utilizzo di più versioni bibliche, si arriva comunque a comprendere chi vuole fare uno studio approfondito, si arriva lo stesso a comprendere qual è il significato preciso dei passi biblici che stiamo studiando. Quindi è importante, è importante perché studiando le Sacre Scritture, conoscendo la verità, esattamente la verità conforme alla volontà di Dio, un'altra cosa che fa questo, che produce questa conoscenza è far maturare spiritualmente il credente, lo porta a diventare maturo spiritualmente, capite? Quindi cresce spiritualmente. E questo è importante perché noi dobbiamo tendere alla crescita, a crescere nella fede e a crescere spiritualmente, a diventare maturi e così portare frutto con perseveranza. Cominciamo allora, cominciamo a parlare della somma della parola e verità. Questo passo, questa parola la leggiamo al Salmo 119, al versetto 160. Questo è un passo di quelli da ricordare a memoria vi servirà sempre, vi servirà sempre, vi dovrà sempre servire, dovrete averlo sempre presente nella vostra mente, vi deve guidare ogni volta che voi studiate le scritture. Quindi è un passo che vi dovete, d'ora in poi, se già non lo conoscevate, è un passo che dovete ricordare a memoria. Sta scritto la somma della tua parola è verità e tutti i giudizi della tua giustizia durano in eterno. Quindi la somma della parola. Perché è importante questo principio? Perché la Bibbia è suddivisa in due parti principali, no? Il Vecchio Testamento dove la fa da padrona la legge di Mosè. E poi c'è il Nuovo Testamento dove la legge di Mosè viene portata a compimento, non c'è l'annullamento della legge di Mosè, badate bene, ma c'è il compimento, cioè le ombre che erano scritte nella legge sono state portate a compimento sotto la grazia, a iniziare dalla venuta di Giovanni Battista. Dalla predicazione di Giovanni Battista in poi ecco che viene annunziata la salvezza mediante la fede nel sacrificio di Cristo, mediante la fede nel Cristo che è stato mandato da Dio. Quindi questo è importante sapere che le scritture, la Bibbia, è suddivisa in queste due parti principali. Quindi considerando il principio della somma della parola, se noi leggiamo qualcosa del vecchio è parola di Dio, dobbiamo dire che è parola di Dio. Però è importante anche conoscere, esaminare se quell'argomento, quella dottrina, quel comandamento che è scritto nel Vecchio Testamento e nella legge è vigente, se ancora da praticare anche sotto la grazia. Ecco quindi, vedete com'è importante la somma della parola verità? Quindi noi dobbiamo osservare i comandamenti, solo quelli che sono confermati anche sotto la grazia. E questo diventa quindi, vedete, un principio importantissimo. Se no, infatti ci sono anche i settati, ci sono le sette, ad esempio, degli avventisti. Cosa fanno? Ti impongono di non mangiare carne, di non mangiare carne di maiale, ti impongono di osservare il sabato, ti impongono alcune cose che fanno parte del Vecchio Testamento ma che nel Nuovo non si trovano, sono stati, diciamo, modificati, cambiati, portati a compimento perché le ombre sono passate, adesso abbiamo la realtà delle cose e noi ci dobbiamo attenere alla realtà delle cose. Quindi le cose nella legge che erano già realtà allora, come ad esempio i dieci comandamenti ad esclusione del sabato, i dieci comandamenti dobbiamo osservarli tutti quanti. Il sabato perché? Il sabato raffigurava la morte, l'entrare nel riposo di Dio nel momento in cui si muore avendo fede in Cristo Gesù. Quindi il sabato oggi noi, come scritto in ebrei, non lo dobbiamo osservare. Nel sabato, cioè nel riposo di Dio, noi dobbiamo entrare, che è una cosa diversa dall'osservare. Perché chi osserva il sabato l'indomani deve lavorare di nuovo, capite? Quindi il riposo non è stato un riposo definitivo ma poi si ricomincia la settimana. Invece il riposo a cui Dio fa riferimento è quel riposo totale, assoluto che noi avremo quando moriremo rimanendo fermi nella fede in Dio, quando moriamo in Cristo. entriamo nel riposo e dopodiché non ci sarà più alcuna fatica. Quello è il sabato. Per farvi capire, ecco, cosa vedete, le problematiche che possono scatturire se nel leggere le scritture noi non ci atteniamo alla somma della parola, capite? Quindi è un principio a cui attenersi fondamentale, fondamentale, perché altrimenti non sapremo quando ci sono due cose che sembrano contraddirsi tra il vecchio e il nuovo, noi non sapremo poi quale seguire, capite? Quindi dobbiamo fare attenzione a studiare le cose nella totalità delle sacre scritture. Solo così noi potremmo dire come potremmo capire qual è la verità. Vi faccio un altro esempio. Sta scritto nella legge, anche prima della legge fu detto anche a Noè, di non mangiare sangue. Non si doveva mangiare il sangue. Ecco, in Atti degli Apostoli c'è stata una conferenza dove è stato preso anche quell'argomento del mangiare il sangue ed è rimasto com'era anticamente, com'era nel Vecchio Testamento, così è rimasto anche sotto la grazia. Infatti è una cosa necessaria da imporre anche ai gentili quella di non mangiare il sangue, così come la fornicazione, non mangiare cibi sacrificati agli idoli, capite? Quindi è l'idolatria di non essere, diciamo, di non essere idolatri. Quindi vedete com'è importante? È un principio da considerare molto importante. Ora facciamo un esempio, andiamo a leggere che cosa dice la legge a riguardo dei cibi puri e impuri, perché è sempre parola di Dio, che Dio ha ordinato al suo popolo di non mangiare determinati cibi. E quella è parola di Dio, perché se uno non conosce la somma della parola, cosa fa? Ti viene, uno ti legge questo passo, vi legge questo passo che è scritto in Levitico 11, nel libro della legge. In Levitico 11, leggiamo qualche versetto iniziale di Levitico 11. Se uno, se chi ascolta non conosce la somma della parola, se uno apre la Bibbia e dice, vedi, è comandato che tu non mangi questi animali, perché è un ordine che Dio ha dato, ed è vero, è un ordine che Dio ha dato. Però adesso facendo tutto il ragionamento voi vedrete che è vero che Dio ha dato quell'ordine, però è anche vero che quell'ordine aveva un significato spirituale, era un'ombra delle cose che dovevano avvenire e Gesù lo ha chiarito e lo ha annullato. Quindi Dio ha dato l'ordine e Dio lo ha reso compiuto, perché conteneva in sé quel comando, conteneva in sé una figura, un'ombra delle cose che dovevano avvenire. Quindi avvenute quelle cose non c'era più da osservare quel comando. Quindi vedete perché è importante attenersi al principio nello studio della parola attenersi al principio della somma della parola della tua parola è verità quindi la somma della parola cioè la verità non per forza di cose è verità da attuare, da mettere in pratica oggi se io prendo solo un singolo versetto fuori da ogni contesto capite? E uno ti può dire, ma è scritto nella Bibbia sì, ma bisogna esaminare il passo ogni passo va esaminato capito e praticato solo se solo nella casistica in cui tu lo hai esaminato nella somma della parola perché se c'è scritto tu non devi mangiare il coniglio e c'è scritto certo che c'è scritto è scritto nella Bibbia però senza l'esame di tale versetto nella somma della parola non puoi giungere a una conclusione corretta non giungi a una conclusione corretta quindi non puoi giungere a conclusioni dottrinali se tu non conosci la somma delle dottrine la somma di quello che c'è scritto nella parola di Dio quindi è importante studiare tutta la parola di Dio perché questo conoscendo anche se uno non conosce tutto nei dettagli però studiando tutta la somma della parola sai quel minimo che ti è sufficiente almeno nelle cose più importanti e principali viene a conoscenza di quelle cose utili che ti serviranno per rigettare tutto quello che tu che oggi non è più valido ad esempio come la decima capite guardando la somma della parola noi ci rendiamo conto che la decima oggi ad esempio non deve essere più imposta ai santi sotto la grazia e invece che cosa assistiamo stiamo vedendo che nelle denominazioni molti predicano la decima perché perché amano il denaro desiderano strappare del denaro ai membri e gli impongono il pagamento della decima uno è libero di dare quello che vuole questo insegna il nuovo testamento sotto la grazia sotto la grazia l'insegnamento è che uno è libero di dare quello che vuole non è che sotto la grazia non si deve dare attenzione anche sotto la grazia è scritto che si devono dare si deve dare si deve far parte dei propri beni ai poveri a quelli che ne hanno necessità anche si deve sovvenzionare anche anche i ministri che che servono il signore totalmente che si dedicano totalmente a servire il signore il nuovo testamento lo insegna quello che non dice il nuovo testamento sotto la grazia è che bisogna imporre la decima questo non lo dice perché la decima era un sistema per provvedere era un sistema della legge che siccome il Dio aveva ordinato ai leviti di non lavorare aveva altresì provveduto ai loro beni alle loro necessità aveva provveduto attraverso il pagamento di quella decima parte da parte delle undici tribù che pagavano la decima ai leviti il Dio nel vecchio testamento il servizio al tempio lo aveva organizzato in questa maniera ma noi non siamo né i leviti noi gentili non abbiamo né i leviti non abbiamo il tempio non siamo basati sulla legge non siamo basati sulla legge sotto la grazia non è basata sul sacerdozio levitico ma il nostro sacerdozio è basata sul sacerdozio di Cristo che sommo sacerdote come lo era e diciamo come Melchisedec capite quindi è cambiato il sacerdozio sotto la grazia abbiamo un altro sacerdozio ecco perché non si deve imporre non è che non si può pagare la decima perché uno in cuor suo può decidere come ha fatto Giacobbe come ha fatto Abramo perché poi vi citano questi passaggi no? vi dicono ma Giacobbe ha dato la decima Abramo ha dato la decima sì si deve dare la decima cioè se uno vuole dare la decima la può dare libero perché sotto la grazia siamo liberi di dare tutto quello che uno vuole dare compresa la decima quello che è vietato è imporla da fuori con i comandamenti della legge questo è vietato sotto la grazia ma adesso lasciamo l'argomento della decima ecco quindi vedete come un esempio della somma della parola c'è un comandamento sotto la legge di Mosè che sotto la grazia non deve essere insegnato quindi se io prendo solo il pezzo dove si parla della decima nel vecchio testamento è sempre parola di Dio quella non possiamo dire che non è parola di Dio lo è però non è la verità per oggi perché la verità è nella somma della parola di Dio capite è importante questo principio è fondamentale altrimenti non riusciremo a capire non riusciamo ad avere un rapporto di studio con la parola che non è corretto ecco avremo un rapporto non corretto nello studio della parola quindi dobbiamo attenerci a questo a questo principio adesso andiamo a leggere il passo che vi ho detto in Levitico 11 sta scritto poi l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dicendo loro parlate così ai figlioli di Israele questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra mangerete di ogni animale che ha l'unghia spartita e ha il pie forcuto e che rumina ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi il cammello perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro il coniglio perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro la lepre perché rumina ma non ha l'unghia spartita la considererete come impura il porco perché all'unghia spartita è il pie forcutto ma non rumina lo considererete come impuro non mangerete della loro carne e non toccherete i loro corpi morti li considererete come impuri vedete? allora, se noi seguiamo un principio sbagliato se io leggo una cosa nella Bibbia un comandamento in questo caso che non devo mangiare determinate cose se io mi limito conosco solo questo pezzo non conosco tutto il resto della scrittura io pensando ma questa è parola di Dio quindi la devo fare potrei essere portato a non mangiare più coniglio a non mangiare più maiale perché lo dice la legge di Dio il comandamento di Dio ma se si segue il giusto principio della somma della parola è verità allora noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a leggere anche quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento per vedere se quel comandamento è confermato oppure no e quindi noi adesso andiamo a leggere nel Vangelo di Marco quello che Gesù dice a riguardo dei cibi puri e impuri perché la conclusione di quello che leggeremo qual è? nella legge di Mosè era comandato di non mangiare certi animali nel Gesù con le sue parole con la sua venuta lui ha fatto tutti i cibi puri li ha fatti tutti puri quindi Dio aveva dato un ordine e sempre Dio lo ha modificato perché quell'ordine iniziale di non mangiare cibi impuri conteneva una figura un'ombra delle cose che dovevano venire in Cristo in Cristo praticamente non ci sono più cioè che cosa rappresentavano i cibi impuri la distinzione tra cibi puri tra gli animali puri e impuri rappresentava la distinzione che c'era tra il popolo di Israele che era puro davanti a Dio e i gentili cioè quelli che non erano ebrei quelli erano tutti impuri infatti i gentili i giudei non potevano avere rapporti con quelli che non erano giudei non entravano in casa perché erano impuri erano considerati impuri e badate bene questo concetto ce l'hanno ancora i religiosi ebrei di oggi ci considerano ancora come animali impuri come cani ci considerano ancora così quelli religiosi poi anche tra di loro ci sono quelli che non gli interessa nulla della religione ma quelli i religiosi i giudei ebrei pensano che i gentili sono come animali impuri sono sono gente da gettare via da starsene alla larga capite cosa è successo però in Cristo dei due popoli giudei e gentili ne è stato fatto uno solo perché quelli che credono in Cristo sia giudei che gentili diventano tutti puri capite in Cristo si diventa puri quindi non c'è più distinzione tra il popolo ebraico puro e i gentili impuri ma in Cristo mediante la fede si diventa si muore con Cristo e quindi e quindi si diventa puri tutti quanti nella stessa maniera dei due popoli quindi ne è stato fatto uno solo vedete quindi è venuto meno l'ombra che c'era nascosta diciamo nel che era nascosta nella simbologia dei cibi impuri ma vediamo come definisce la cosa come la chiarisce Gesù quindi Marco 7 leggiamo dal versetto 14 poi chiamata se di nuovo la moltitudine diceva loro ascoltatemi tutti ed intendete non vi è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo e quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro siete anche voi così privi di intendimento non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi vedete Gesù ha fatto capire badate bene che non è quello che mangiamo che ci contamina spiritualmente non è quello cioè stiamo parlando qui però dei cibi puri e impuri in questo ragionamento non sono compresi i cibi sacrificati agli idoli e le carni soffocate quelle è rimasto sempre in atti 15 vediamo che quelle così come il divieto di mangiare il sangue è rimasto questi comandi questo comando questi comandamenti sono rimasti anche sotto la grazia si sono riuniti gli anziani gli apostoli tutta la chiesa e insieme allo spirito santo è uscito fuori il decreto di queste cose che è scritto appositamente è necessario che queste cose siano osservate bisogna imporle ai gentili quindi i cibi sacrificati agli idoli le carni soffocate questi tipi di cibi non vanno neanche oggi mangiati però questo argomento non c'entra con i cibi puri e impuri capite perché le carni sacrificate agli idoli quelle non vanno mangiate né se si tratta di cibi puri né se si tratta di cibi che rientrano nell'impurità quindi vedete sono due cose distinte quando troverete nelle scritture dei passi che parlano di cibi puri e impuri è un argomento ed è questo che noi stiamo affrontando se si parla invece di cibi sacrificati agli idoli o di carni soffocate quella è un'altra cosa quello è vietato sempre è stato vietato prima sotto la legge ed è vietato oggi sotto la grazia mentre limitatamente ai cibi puri e impuri invece sotto la grazia non c'è più differenza perché Gesù ha fatto capire non è il cibo che tu mangi se lo consideriamo puro o impuro non è quel tipo di cibo impuro che ti può contaminare ma sono altre cose quello che ti arriva nel cuore quello che esce dal cuore la malvagità che esce dal cuore ecco quello contami ma non il cibo che ti entra nel ventre e poi se ne va nella latrina cioè nelle fogne va via quello passa attraverso di noi lascia quello che deve lasciare l'energia e poi se ne va quindi non è quello che contamina e Gesù ha detto così dicendo dichiarava vedete fece una vera e propria dichiarazione importantissimo questo perché quando viene uno a dirvi non puoi mangiare carne di maiale perché ti legge il passo che ti ho letto io in levitico ti legge quel passo ti dice che non puoi mangiare il coniglio non puoi mangiare la carne di maiale ma non è completo lì perché noi considerando la somma della parola che è verità considerando la somma della parola ecco che arriviamo a capire che cosa dobbiamo fare effettivamente oggi sotto la grazia quindi sotto la grazia noi possiamo mangiare qualsiasi tipo tipo di cibo perché oggi sotto la grazia non c'è più distinzione tra i cibi puri e impuri capite e Gesù l'ha dichiarato ha fatto tutti i cibi sono diventati puri per spiegarvi questo che Pietro questo argomento non gli era chiaro adesso andiamo a leggere in atti degli apostoli come il Dio lo ha spiegato all'apostolo Pietro dobbiamo andare al capitolo 10 di atti degli apostoli dove il Dio parlando attraverso una visione un rappimento di mente un'estasi estasi vuol dire rappimento della mente cioè il Dio ti rapisce quando tu hai una visione avviene questo che tu diciamo vieni rapito la tua mente viene rapita e tu vedi cose che non sono lì dove sei presente con il corpo capite ma la tua mente vede quello che Dio ti vuole far vedere anche se tu sei se sei dentro casa la tua mente viene rapita questa è una visione no sei sveglio la tua mente viene rapita e Dio ti fa vedere determinate cose non so un campo aperto cosa che tu non puoi vedere perché sei dentro casa capite ti fa vedere distese montagne ti fa vedere quello che lui vuole farti vedere ecco quello ti viene rapita la mente si va in estasi si ha una visione e quello che avvenne a Pietro lo leggiamo in Atti 10 al versetto dal versetto leggiamo dal versetto 9 or il giorno seguente mentre quelli erano in viaggio cosa avvenne prima prima di questo un angelo apparve a Cornelio che gli disse di andare a chiamare Pietro va bene avvenne questo però Cornelio era un gentile mandò dei gentili a chiamare Pietro Pietro era giudeo considerate che era all'inizio la parola di Dio si stava spargendo quindi alcuni pregiudizi i giudei anche se credenti cristiani i pregiudizi ce li avevano ancora erano radicati in loro ed erano difficili da essere sradicati cosa avvenne avvenne che il Dio mandò un angelo a Cornelio e quell'angelo gli disse a Cornelio di andare a chiamare Pietro che gli avrebbe parlato delle cose per i quali lui e la casa sua sarebbero stati salvati quindi il Dio operò con Cornelio ma nel contempo il Dio che sapeva che Pietro aveva dei pregiudizi ha rimosso questi pregiudizi come li ha rimossi lo leggiamo adesso dal versetto 10 capitolo 10 di Atti degli Apostoli dal versetto 9 or il giorno seguente mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta l'ora sesta è mezzogiorno per pregare e avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra in esso erano dei quadrupedi dei rettili della terra degli uccelli del cielo di ogni specie e una voce gli disse levati Pietro ammazza e mangia ma Pietro rispose in nium modo signore poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato e una voce gli disse di nuovo la seconda volta le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde e questo avvenne per tre volte e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo capite il Dio Pietro aveva fame il Dio gli fece vedere tanti animali in quel lenzuolo lo voleva spingere ad ammazzare e mangiare quei cibi tra quei cibi c'erano quelli impuri o erano tutti impuri quei cibi lì quel cibo che gli ha fatto vedere il Signore a tal punto che vedete Pietro cosa fa gli dice no io non lo voglio mangiare perché non ho mai mangiato nulla di immondo e non voglio cominciare adesso però il Dio gli dice la voce lo Spirito Santo gli dice quelle cose che Dio ha purificate non le fare tu immonde cioè sotto la grazia come anche aveva detto Gesù vi ricordate l'abbiamo citato prima in Marco nel Vangelo di Marco Gesù aveva fatto tutti i cibi puri le cose che Dio ha purificate l'uomo non le può fare immonde quindi non può venire qualcuno a dirmi tu il maiale non lo puoi mangiare perché è un cibo immondo secondo la Bibbia sì una parte della Bibbia ma la somma della parola mi permette di mangiare anche il maiale di mangiare tutti quei cibi che sono impuri anche capite vedete come come seguire seguire il principio della somma della parola tu giungi alla verità e vieni liberato dalla verità perché uno che non utilizza questo questo principio rimane legato rimane legato cioè si mette a osservare la legge di Mosè praticamente capite e quindi è fondamentale è fondamentale cioè nessuno ci deve imporre niente se noi non troviamo confermato tutto nelle sacre scritture nel Nuovo Testamento capite non ci può imporre nulla a nessuno se è scritto anche sotto la grazia perché sotto la legge era vietato mangiare i cibi sacrificati agli idoli e anche le carni soffocate e anche il sangue guardate bene era vietato va bene ecco questi divieti sono rimasti anche sotto la grazia questo lo leggete nel capitolo 15 di Atti degli Apostoli ciò è rimasto anche sotto la grazia quindi noi oggi non mangiamo cibi sacrificati agli idoli non mangiamo carni soffocate e non mangiamo sangue capite perché questo è rimasto anche sotto la grazia però che non dobbiamo mangiare cibi impuri questo no perché per quanto riguarda i cibi impuri Gesù ha fatto tutti i cibi puri li ha fatti diventare puri e abbiamo visto come Dio ha parlato anche a Pietro ma cosa ha capito Pietro e che la scrittura poi ci dice siccome era un po' perplesso Pietro cos'è che ha capito ce lo dice lui stesso quando parla con Cornelio quando si incontra con Cornelio quindi andiamo avanti a leggere sempre in atti 10 al versetto 20 leggiamo dal versetto 25 10-25 e come Pietro entrava cioè a casa di Cornelio praticamente Pietro dopo andò insieme a quelli che andarono a chiamarlo e lo accompagnarono a casa di Cornelio e lui entrò a casa di Cornelio anche se per i giudei non doveva entrare capite c'era questo passaggio infatti dopo arrivato tornato a Gerusalemme Pietro si è dovuto giustificare con i giudei perché erano entrato a casa dei gentili però noi adesso manteniamoci al discorso che stiamo facendo ed è questo leggiamolo e come Pietro entrava Cornelio fatto gli incontro gli si gettò ai piedi e l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono uomo e discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati quivi e disse loro voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato vedete questa è la conclusione a cui è giunto Pietro dopo che Dio gli diede quella visione e quella voce gli spiegò alcune cose lui comprese questo che non doveva chiamare nessun uomo immondo o contaminato quindi i gentili non sono più impuri immondi e contaminati come lo erano sotto la legge capite quindi adesso i giudei i giudei devono avere relazioni normali anche con i gentili capite e questo ecco questo era il significato per cui Dio aveva diciamo suddiviso i cibi tra puri e impuri quelli impuri contenevano un significato un'ombra delle cose che dovevano venire quindi queste ombre una volta che è venuta la realtà delle cose le ombre non servono più infatti Gesù ha dichiarato che tutti i cibi sono puri e Dio lo ha confermato anche con Pietro però badate bene questo pregiudizio apro questa parentesi per dilungarmi ancora su questo argomento che ormai abbiamo toccato questa cosa dell'impurità dei gentili Pietro dopo ha sbagliato ancora se voi leggete i primi capitoli della pistola di Paola e Galati voi leggerete che Paola ha dovuto riprendere duramente e davanti a tutti Pietro perché aveva aveva ripreso a giudaizzare quindi si teneva separato dai gentili capite questo cosa ci fa capire anche ci fa capire che bisogna fare attenzione cioè anche se il Signore ci ha ammaestrato su una determinata cosa noi dobbiamo stare fermi in essa non è che dobbiamo ci possiamo fare comunque come vogliamo noi se il Signore ce l'ha insegnato dobbiamo stare fermi a fare come il Signore ci ha insegnato quella cosa lì invece Pietro si tirò indietro Paolo dice addirittura che era da condannare quindi di nuovo stava iniziando a giudaizzare che ne trascinò nella sua nella sua finzione nella sua separazione dai gentili trascinò anche Barnaba trascinò anche altri capite questo per per mostrarvi Pietro ripienosi di Spirito Santo guariva gli infermi faceva evangelizzava molti anime si erano convertite per la sua predicazione ma rimaneva pur sempre un uomo debole che poteva fallire come tutti gli altri capite questo perché c'è uno che poi non si deve pensare che quelli che hanno i doni spirituali potenti che sono battezzati con lo Spirito Santo alla fine non sono non falliscono mai no assolutamente non è vero devono stare attenti perché anche loro se non perseverano nella preghiera se non perseverano nello studio della parola e non si attengono a tutte le cose che il Signore gli ha insegnato anche loro c'è la possibilità che si svino e comunque non facciano quello che non facciano non si attengano alla volontà di Dio e questo era quello che si poteva per farvi capire vi ho fatto questo esempio dei cibi puri e impuri per farvi capire come la scrittura in un punto possa dire una cosa e in un altro possa dire l'esatto contrario no? cioè nel Vecchio Testamento quindi nella legge era scritto che certi cibi erano impuri sotto la grazia invece da Gesù Gesù ha dichiarato che i cibi impuri sono diventati tutti puri quindi oggi nessuno deve venire a noi a imporci e dirci che certe carni certi cibi non li dobbiamo mangiare cioè non li dobbiamo siamo obbligati a non mangiarli se tu non li vuoi ad esempio oggi possiamo mangiare anche i topi possiamo mangiare tutti non ci sono più cibi impuri serpenti rettili possiamo mangiarli cioè abbiamo la possibilità di mangiarli ma se io non li voglio mangiare quella è un'altra cosa cioè se io non ho piacere di mangiarli io non li mangio però attenzione se c'è qualcuno di qualche nazione che comunque li mangia noi non ci dobbiamo scandalizzare non dobbiamo accusarli capite? perché? perché i cibi sono tutti quanti puri quindi ognuno mangia quello che si sente di mangiare non dobbiamo giudicare non dobbiamo giudicarli quelli che mangiano cibi impuri secondo la legge capite? o certi cibi non li dobbiamo giudicare perché tutti i cibi adesso sono puri magari puoi dire che tu questo cibo non lo vuoi mangiare ma va bene lo puoi fare tu puoi mangiare i cibi che vuoi che ti senti di mangiare ma non devi imporre nessun cibo agli altri non puoi dire né mangia questo e neppure non mangiare questo capite? questo però si sta parlando di qualità di cibo se si entra come ho detto prima nel campo dei cibi sacrificati agli idoli del sangue o delle carni soffocate no quelli non si devono mangiare rimane fermo il comandamento dato nel vecchio testamento nella legge capite? non si deve mangiare non si devono mangiare ma sono e questo è un altro argomento però separato dai cibi puri e impuri quindi abbiamo visto il principio della somma della parola e verità adesso voglio parlarvi del dell'altro principio che è la letteralità della parola cioè quando noi approcciamo a studiare la parola dobbiamo capire esattamente le lettere che sono scritte lì di cui sono composte le frasi che Dio ha voluto comunicarci capite? cioè bisogna capire bisogna bisogna accettare che il significato scritto cioè il significato che noi comprendiamo sia esattamente quello che è scritto questo è il principio quello che è scritto quello è il significato attenzione però il significato letterale va preso sempre lo devi capire sempre anche quando ci sono parabole anche quando ci sono figure perché perché con le parabole con le figure tu non ti fermi al significato letterale non ti fermi lì perché essendo giustamente figure e parabole devi trovarne dei significati il significato della letteralità capite però se tu non capisci letteralmente anche per quanto riguarda le figure le parabole le similitudini se tu non capisci letteralmente quello che c'è scritto tu non puoi neanche trovare la spiegazione spirituale che c'è in quella parabola e in quella similitudine quindi comunque sia il principio della letteralità della parola va sempre usato va sempre utilizzato va sempre tenuto da conto vi faccio un esempio in romani in romani sta scritto si parla di olivo domestico e di olivo selvatico va bene io sono sicuro qui che se non ci sono contadini se non ci sono persone che hanno lavorato bene l'olivo e gli olivi non sanno che differenza ci sia tra l'olivo domestico e l'olivo selvatico l'innesto perché si parla che noi gentili siamo noi gentili che siamo l'olivo selvatico per natura siamo stati innestati nell'olivo domestico però lì Paolo dice contro natura perché dice contro natura perché vedete se non si capisce cosa sono letteralmente un olivo domestico e un olivo selvatico non riusciremo a capire la bellezza di quei passaggi biblici che Paolo ci ha spiegato capite quindi vedete come è importantissimo capire sempre comunque la letteralità del significato che è scritto nella parola perché dice Paolo che siamo stati innestati contro natura nell'olivo domestico perché l'innesto si fa al contrario cioè si prende si tagliano i rami dell'olivo domestico e si innestano nell'olivo selvatico tagliando i rami di quello selvatico che vanno gettati via si innestano i rami dell'olivo domestico e così comincerà a portare frutto l'olivo selvatico diventerà domestico capite porta frutto poi cosa ha detto cosa ha detto che l'olivo Paolo ha detto l'olivo 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 domestico che è il popolo di Israele e noi siamo l'olivo selvatico noi sono stati troncati dei rami dell'olivo domestico per la loro incredulità e siamo stati innestati noi gentili siamo andati contro natura vedi il Signore ha operato contro natura vedete ha tagliato e gettato nel fuoco i rami i rami dell'olivo domestico e ci ha innestato quelli i rami dell'olivo selvatico ecco quindi spiegato perché in quel passaggio Paolo parla dice che contro natura siamo stati innestati nell'olivo domestico capite quindi vedete com'è importante capire bene la letteralità della parola qui oltre a utilizzare il principio della somma della parola per capire bene che cosa stiamo leggendo e studiando ci dobbiamo attenere strettamente senza allontanarci dal significato letterale che c'è nella parola e anche se c'è un significato in più cioè quello spirituale anche si aggiunge quindi non sostituisce ma si aggiunge allora vedete il Signore ci guiderà a capire anche quello capite mediante la guida dello Spirito Santo perché è scritto anche che lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità e noi dobbiamo credere nella parola dobbiamo avere fede che questa sia la parola di Dio e che lo Spirito Santo ci guida a capirla poi a tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che dobbiamo pregare per ricevere sapienza e intelligenza da Dio per poter comprendere quello che leggiamo delle Sacre Scritture perché quando noi comprendiamo non comprendiamo perché siamo noi intelligenti ma comprendiamo perché Dio ci apre la mente per intendere le scritture è Dio che ci apre la mente è l'opera sua non è nostra quindi non sono i titoli di studio non sono l'intelligenza umana che tu hai non è la capacità che tu hai capite non sono le lauree che hai preso che ti fanno capire la verità dottrinale della parola no chi ti fa capire è lo Spirito Santo però per essere agevolati in questo ma anche per capire come parlano gli altri dobbiamo attenerci a questi due principi che sono la somma della parola e la letteralità della parola il significato dobbiamo mantenerci stretti al significato letterale della parola infatti l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi andiamo a leggere prima Corinzi capitolo 4 dal versetto 6 or fratelli queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro cosa dice qui Paolo Paolo dice che bisogna imparare a praticare il non oltre a quello che è scritto cioè non bisogna andare fuori da quello che è scritto al di là di quello che è scritto non bisogna superare la linea e il significato di quello che è scritto quindi è una conferma dunque se non si può andare oltre a quello che è scritto io non posso lasciarmi andare non posso lasciar vagare la mia mente a cercare significati spirituali dei passi per poi spiegare e dire il contrario di quello che è scritto capite ecco quindi i farisei cosa facevano annullavano annullavano i comandamenti di Dio li sostituivano con la loro tradizione vedete quindi non si attenevano letteralmente ai comandi di Dio ma li interpretavano a modo loro quindi quello che con questo principio cosa diciamo dove spingiamo i fratelli spingiamo i fratelli ad attenersi strettamente a quello che è scritto letteralmente nella parola in maniera che non si vada a vagare lontano e non si dica poi il contrario di quello che è scritto perché questo tendono alcuni c'è scritto un comando fanno tutto un ragionamento per annullare rendere nullo quello che è scritto nella parola il comando che è scritto nella parola e questo perché perché ci sono di quelli che dicono no no non si deve dare una non ci si deve mantenere al significato letterale della parola perché perché se ci si mantiene al significato letterale della parola i seduttori di menti non sono liberi di dire quello che vogliono capite se noi ecco perché noi ci atteniamo strettamente a quello che è scritto e non ci interessa niente cosa dicono cosa spiegano le interpretazioni che danno di determinate cose non ci interessa perché perché se è scritto una cosa noi ci atteniamo solo a quello e infatti con noi i seduttori di menti non possono lavorare più di tanto possono parlare ma non trovano terreno fertile perché se c'è scritto che Dio ha fatto facciamo un esempio di quelli che abbiamo già già discusso se Gesù ha dichiarato tutti i cibi puri non può venire un avventista del settimo giorno e dirmi che io non posso mangiare la carne di maiale se no pecco e vado all'inferno non me lo può dire perché io leggo quello che c'è scritto Gesù l'ha dichiarato tutti i cibi sono puri quindi non può attecchire questa loro menzogna su di me purtroppo mi sono trovato dei pentecostali avevano una famiglia di pentecostali avevano come amicizia un avventista questa avventista gli presentava il fatto di non mangiare carne di maiale perché altrimenti sarebbero andati all'inferno questi essendo deboli spiritualmente tanti anni nella fede ma deboli spiritualmente non erano cresciuti non erano maturati cosa è successo è successo che hanno cominciato a non mangiare più carne di maiale e un giorno mi hanno invitato anche a me è uscito fuori questo discorso e io gli ho dimostrato con le scritture che guardate che le cose non stanno così non stanno così noi non siamo più sotto la legge Gesù è venuto ha dichiarato tutti i cibi puri quindi non non cioè se uno non lo vuole mangiare il maiale perché non gli piace è liberissimo uno mangia quello che vuole c'è chi vuole mangiare solo legumi chi vuole mangiare carne di tutti i tipi è libero di mangiare quello che vuole nessuno deve imporgli e nessuno deve giudicare l'altro se mangia questo o quest'altro però l'imposizione capite è quello che non va bene allora io il maiale lo posso mangiare lo voglio mangiare e lo mangio altri cibi che so che sono comunque puri faccio un esempio i pipistrelli che ci sono posti dove li mangiano i topi i serpenti io so che si possono mangiare non condanno chi li mangia ma a me non mi piace mangiarli per dire non li voglio mangiare poi se starò morendo di fame c'è solo quel cibo poi si vedrà capite ma adesso attualmente preferisco un pezzo di pane un po' di formaggio per dire ma senza mangiare cibi che io non gradisco ma attenzione se c'è qualcuno che li mangia io non lo posso giudicare capite perché perché Gesù ha dichiarato tutti i cibi puri quindi utilizzando il principio della somma della parola della somma della parola perché in quel caso uno dice vabbè io mi attengo vedete al principio della letteralità della parola va bene e legge non puoi mangiare carne di maiale quindi il principio della letteralità leggendo quel passo viene osservato va bene però non viene osservato non si tiene conto del principio della somma della parola quindi vedete devono lavorare insieme questi due principi per produrre un effetto positivo nello studio che stiamo facendo cioè devono essere osservati devono essere considerati entrambi insieme tutti e due se uno dei due non va bene allora non arriveremo mai alla comprensione corretta della volontà di Dio in quell'argomento in quel passo in quella dottrina capite? quindi bisogna tenere conto di questi due principi importanti ad esempio quindi abbiamo visto che Paolo richiama richiama ad essere imitatori loro e a dire dobbiamo dire anche noi che non dobbiamo andare oltre a quello che è scritto e questo vedete è un passaggio biblico che è un principio che Paolo utilizzava per sé e per gli altri che portano a capire ci portano ci fanno capire che dobbiamo seguire il significato letterale perché cosa succedeva se non ci si atteneva al significato letterale e si andava oltre a quello che è scritto qui Paolo sempre lo dice dice affinché non vi gonfiate d'orgoglio perché se è scritto una cosa se io mi metto a dire cose che non sono scritte o a spiegare cose contrarie a quelle che sono scritte uno cosa fa pensa che lui sa più degli altri perché non essendoci scritte le so io e tu non le sapevi non le sai non le sapevi quindi io sono qualche cosa quindi io e si gonfiano capite si gonfiano perché cominciano a dare spiegazioni e interpretazioni di cose che o non sono scritte o danno spiegazioni contrarie a quello che è scritto ed ecco che si gonfiano d'orgoglio se non addirittura commettono peccati ancora più gravi quando annullano il comandamento di Dio è ancora più grave capite come facevano i farisei che annullavano i comandamenti i comandamenti di Dio quindi ecco bisogna tenersi in qualsiasi maniera qualsiasi modo qualsiasi dottrina anche parabole dobbiamo capire bene il significato letterale poi se è una parabola capito significato letterale io capisco quindi che è una parabola e ci vogliono delle spiegazioni delle sono figure quindi devo capire la realtà delle cose devo devo trovare altri significati interpretazioni qui mi aiuterà lo Spirito Santo mi aiuterà il Dio a capire però non mi devo mai allontanare comunque dal significato letterale capite anche il significato spirituale deve combaciare correttamente col significato letterale capite cioè non è che io il significato letterale dice una cosa e io mentre gli do una spiegazione mi posso allontanare da quel significato letterale e dire tutt'altro che non c'entra niente capite cioè anche il significato spirituale deve essere comunque attinente a quello che viene detto letteralmente cioè deve essere averente si dice cioè il significato deve combaciare capite e non solo questo non solo quello che ha detto e ha scritto Paolo ma andiamo a vedere anche come si è riferito alla legge Gesù quindi andiamo a leggere nei Vangeli nel Vangelo di Luca nel Vangelo di Luca al capitolo capitolo 10 al versetto 25 qui nella mia Bibbia c'è scritto parabola del buon sammaritano ma è falso perché non è una parabola il racconto del sammaritano non c'è scritto né Gesù dice che è un buon sammaritano buon la la quest'aggettivo buono non viene usato quindi non possiamo dire né che è buono il sammaritano e non possiamo dire neanche che questo racconto sia una parabola perché non è una parabola è un racconto effettivamente effettivamente accaduto perché perché non c'è scritto che è una parabola non viene utilizzata la parola come non c'è usata la parola similitudine quindi non c'è niente che possa farci capire che le parole sul racconto del sammaritano fossero una figura ma sono dei fatti realmente accaduti per riconoscere una parabola da un da un racconto vero e proprio bisogna considerare se c'è scritto chiaramente che sia una parabola oppure che ci sia indicata la parola come che indica similitudine o direttamente la parola similitudine capito ci vogliono delle parole che ci fanno capire che quello che viene detto sia una parabola ci vogliono delle parole specifiche che qui nel sammaritano non ci sono queste parole quindi è un racconto realmente accaduto ma non è sul racconto del sammaritano che voglio soffermarmi ma tra il discorso tra Gesù ma nel discorso che ha fatto Gesù con questo dottore della legge che parlò con Gesù da cui poi è scatturito il racconto del sammaritano quindi leggiamo dal versetto 10-25 di Luca ed ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse maestro che dovrò fare per eredare la vita eterna ed egli gli disse nella legge che sta scritto come leggi e colui rispondendo disse ama il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso e Gesù gli disse tu hai risposto rettamente fa questo e vivrai vedete questo questo dottore gli disse cosa devo fare per essere salvato voleva comunque sapere cosa ne pensava Gesù Gesù dove lo rimanda lo rimanda alla legge scritta ma attenzione come ne parla Gesù non è che gli dice cosa hai capito dalla legge cosa si può interpretare da quello che hai letto no no gli dice proprio fa un riferimento proprio alla letteralità della parola dei comandamenti di Dio quando gli dice come leggi che sta scritto fa riferimento appunto alla letteralità di quello che è scritto non dà margine di possibilità di poter interpretare quello che è scritto infatti cosa gli dice come gli risponde come gli risponde il dottore della legge che attenzione risponde rettamente giustamente che gli cita il più grande comandamento che è da osservare e il secondo che è come il primo quello di amare il prossimo come se stessi questi sono il più grande comandamento che gli cita e gli cita un passaggio della legge che è giusto è corretto ha citato correttamente e l'ha citato come scritto e Gesù cosa gli dice Gesù gli disse tu hai risposto rettamente fa questo e vivrai fai quello che tu hai detto che c'è scritto letteralmente nella legge capite non ha dato margine a questo dottore di di non gli ha dato il margine di poter interpretare capire altre cose poi successivamente il discorso continua e il dottore della legge ha dei problemi per capire chi è il suo prossimo e gli racconta la storia del racconto del 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 sammaritano ma io ho voluto evidenziarvi questa parte per farvi capire come Gesù rimandava alla letteralità della legge di quello che era scritto nell'osservanza vedete nell'osservanza di determinati comandamenti Gesù rimandava alla letteralità quindi è importante questo capire letteralmente quello che è scritto per capire anche quello che noi dobbiamo mettere in pratica così come scritto perché ci sono cose che sono scritte che le dobbiamo mettere in pratica così come sono scritte non ci dobbiamo inventare nulla non dobbiamo modificare nulla non dobbiamo dare interpretazioni che annullano la letteralità di quello che è scritto sono i seduttori di menti quelli che insegnano false dottrine che devono sono obbligati a modificare la letteralità della parola perché perché altrimenti non riescono a spiegare le loro falsità capite quindi con la somma della parola e con la letteralità della parola già noi stiamo riuscendo a scansare tantissime false dottrine non è che è sufficiente solo questo perché ci vuole soprattutto la guida dello Spirito Santo però già con questo noi riusciamo a riconoscere subito velocemente quelli che che non parlano da parte di Dio perché se stanno annullando un comandamento scritto vuol dire che non è non è volontà non è secondo la volontà di Dio un'altra cosa un'altra cosa da tenere da conto è che c'è scritto sia nella legge che nel nuovo testamento ed è questo cioè che un altro elemento che ci fa mantenere fermi alla letteralità della parola c'è questo comandamento nel libro del Deuteronomio cioè il libro della ripetizione della legge perché il libro del Levitico è il libro della legge il libro del Deuteronomio è il libro della ripetizione della legge tanto per capire i titoli e poi c'è ancora altre cose che si possono dire sui due libri però il libro della legge fu dato in un punto quando erano nel Sinai Dio lo diede a Mosè il libro del Deuteronomio è stato scritto quando prima di entrare nella terra promessa Mosè ha ripetuto la legge ora al capitolo 12 di questa ripetizione della legge del Deuteronomio leggiamo capitolo 12 versetto 32 versetto 32 dice così avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai e questo è importante quando è che noi siamo sicuri di non aggiungere nulla e di non togliere nulla noi di questo siamo sicuri solamente se ci atteniamo strettamente al significato letterale della parola come abbiamo visto prima Paolo dice non andare non andiamo non bisogna andare oltre a quello che è scritto qui c'è scritto non aggiungere nulla non togliere nulla e se no sei colpevole davanti a Dio perché alla parola di Dio noi uomini non dobbiamo aggiungere nulla né togliere nulla non è che dobbiamo ad esempio facendo ricorso alle lingue originali ci sono quelli che non accettano il significato letterale che noi vediamo e leggiamo in italiano e dicono no ma nell'originale greco nell'originale ebraico non era così ti cominciano a parlare in questo modo perché perché non gli sta bene quello che leggono in lingua italiana nella loro lingua ma anche in inglese succede anche in altre lingue non gli sta bene quello che c'è scritto e cosa fanno vogliono annullare la letteralità di quello che è scritto per sostituirla con le loro dottrine particolari non gli sta bene quindi cosa fanno in questa maniera aggiungono e tolgono come gli pare a loro quindi se noi invece ci atteniamo strettamente al principio della letteralità non riusciamo neanche né a aggiungere nulla né a togliere nulla capite perché noi stiamo seguendo un principio io non tolgo nulla non aggiungo nulla mi attengo strettamente a quello che è scritto così come era comandato nella legge però c'è anche un riferimento c'è anche un riferimento di questo di questo scritto nella legge anche nel Nuovo Testamento all'ultimo capitolo di del Nuovo Testamento che è Apocalisse al capitolo 22 di Apocalisse al versetto 18 che segue lo stesso ragionamento guardate il ragionamento che Dio fa è sempre lo stesso esorta sempre i credenti a mantenersi fermi nella letteralità della parola a non aggiungere nulla e a non togliere nulla quindi 22 18 di Apocalisse io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro se alcuno vi aggiunge qualcosa Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro e se alcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa delle cose scritte in questo libro queste parole sono scritte diciamo in maniera specifica per il libro dell'Apocalisse però può essere tranquillamente applicato come anche abbiamo letto anche nella legge può essere applicato a tutti a tutti gli scritti gli scritti sia del nuovo che del Vecchio Testamento noi non dobbiamo aggiungere nulla né togliere nulla anche perché se tu aggiungi o togli stai dicendo che quello che c'era scritto non ti bastava ed era sbagliato capite? cioè tu uomo fatto di carne e polvere stai correggendo il Dio stai dicendo che lui ha sbagliato a parlare e non può essere così soprattutto quando si annulla il comandamento che è scritto quello che è scritto se si annulla si dice il contrario di quello che sta scritto ecco in quel caso che è il caso peggiore tu stai dicendo che Dio è un bugiardo in quella maniera lo stai correggendo tu uomo stai correggendo il Dio stai aggiungendo togliendo stai commettendo un peccato grave davanti a lui quindi attenzione questi falsi dottori questi seduttori di menti i seduttori di menti attenzione perché il Dio gli dà un tempo per ravvedersi ma poi farà i conti con loro devono stare attenti che i giudizi di Dio sono sempre all'opera sono sempre pronti cioè dobbiamo stare attenti sia per capire la verità ma anche per non farci nemici di Dio per non diventare nemici di Dio se ci mettiamo a correggere capite se ci mettiamo a correggere quello che Dio ha scritto e che ha voluto ma abbiamo parlato quindi di quest'azione dei seduttori di menti io voglio citarvi adesso alcuni passaggi che vi fanno capire cosa vuol dire aggiungere togliere o non attenersi alla letteralità del significato che è scritto delle parole che sono scritte nella Bibbia e che cosa produce questo qual è l'effetto di non attenersi strettamente a quello che è scritto guardate bene che di esempi ne potrei fare tanti però ve ne faccio due due ve ne voglio fare due uno del vecchio testamento uno del nuovo uno dalla Genesi e uno nel nuovo testamento nel nuovo testamento nei Vangeli per farvi comunque capire come si ragiona e come qual è il ragionamento sbagliato e perché ci dobbiamo attenere strettamente alla letteralità della parola di Dio quindi andiamo a leggere la seduzione che dovrebbe essere quella più conosciuta da tutti i credenti le parole del diavolo che rivolse ad Eva qui dobbiamo leggere cosa ci interessa andiamo in Genesi capitolo 2 versetto 16 17 e poi leggeremo capitolo 3 sempre di Genesi cosa ci interessa vedere il comando dobbiamo raffrontare il comandamento che Dio diede ad Adamo e le parole come vengono riportate dal diavolo la differenza perché così fanno i seduttori così fanno i servi del diavolo capite quindi leggiamo vediamo dove dove sta scritto il comandamento che Dio diede ad Adamo 2 16 di Genesi e l'Eterno e Dio diede all'uomo questo comandamento mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai ponete attenzione il Dio nel suo comandamento lo divide in due parti cioè guardate com'è chiaro perché io voglio farvi capire com'è chiaro il comandamento di Dio e invece come andremo a leggere sarà confuso come viene riportato dal diavolo perché il diavolo non vuole riportare le cose come stanno per portare chiarezza il diavolo porta confusione mischia tutte le cose assieme per creare confusione per ingannare quindi Dio guardate divide il suo comando è diviso in due parti il primo è mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ci sono dubbi su questo non c'è nessun dubbio Dio gli ha detto ad Adamo di mangiare di tutti gli alberi che sono presenti nel giardino tutti però poi dice quindi questo è chiaro però dice ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non è mangiare vedete fa un'eccezione quindi ci sono tutti gli alberi nel giardino della conoscenza del bene e del male di quel frutto non è mangiare è chiaro il comando che Dio ha dato sia di mangiare tutti i frutti dell'albero tranne quello specifico quello specifico che Dio ha individuato che è l'albero della conoscenza del bene e del male ora vediamo come nel cercare di sedurre Eva e poi c'è riuscito il diavolo Satana il serpente antico il richiamato anche come riporta quel 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 comando che Dio ha dato ad Adamo lo riporta a Eva in questa maniera 3 1 di Genesi or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti ed esso disse alla donna come il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino guardate avete avete visto cioè il diavolo dice mentre Dio ha detto puoi mangiare di tutti ad Adamo puoi mangiare di tutti i frutti tranne quello della conoscenza del bene e del male quindi un comando dato con due parti precise chiare chiarissime non ti puoi sbagliare qui invece come la mette mischia tutto le due parti il diavolo le mischia dice non mangiare cioè Dio ti ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino vedete è una frase confusa non è chiara e Dio Dio ha detto solamente di non mangiare quel tipo di albero non alberi indefiniti come li vediamo qui nel riportare le parole di Dio Satana vedete come fa fa confusione ma non che lui non sappia lui sapeva bene quello che Dio aveva detto non è che non lo sapeva però per ingannare ti deve presentare il messaggio confuso cioè ti deve confondere se tu non conosci esattamente le parole del comando che Dio ha dato ad Adamo tu potresti credere a quello che il diavolo ti sta dicendo capite infatti dice non mangiate del frutto di tutti cioè il diavolo fa dire a Dio queste parole ma non ha detto queste parole il Dio non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino cioè come il diavolo ha voluto dire ma come Dio vi ha detto che non potete mangiare di tutti i frutti dell'albero del giardino qui non si definisce quanti alberi sono di cui non puoi mangiare non viene definito niente ma perché perché l'obiettivo del diavolo è mettere confusione ingannarti metterti dei dubbi anche capite ti vuole instillare i dubbi ecco che cosa vuole fare il diavolo e quindi vedete si è attenuto nel riportare la parola di Dio il diavolo si è attenuto letteralmente a quello che è scritto oppure no no non si è attenuto quindi vedete un esempio vi ho citato questo esempio per farvi capire come funziona una seduzione si prende un passo della bibbia e si mette confusione in quel passo che cosa viene attaccato di quel passo principalmente la letteralità di quel passo letteralmente viene stravolto viene cambiato modificato si aggiunge si toglie diventa un'altra cosa non è quello che è partito non è quello per cui Dio ha fatto dire quelle parole si arriva i sedutori di menti presentano un significato che non è quello assolutamente che non è quello letterale quindi voi fate attenzione fratelli e sorelle nel Signore dovete fare attenzione quando non vi presentano le scritture letteralmente come sono ma vogliono fargli dire il contrario o cose diverse che comunque non trovate ben chiaramente scritte li dovete rigettare questi qui ma rigettare l'insegnamento rigettare proprio quella persona lì perché sta insegnando perché non è da Dio bisogna fare attenzione voi sapete ognuno è libero di frequentare chi vuole di ascoltare chi vuole di leggere tutto quello che uno vuole però sappiate che se uno si fa sedurre perché poi voi sapete che Eva fu sedotta Adamo fu sedotto ma tutti furono puniti fu punito il seduttore il diavolo e furono puniti anche le persone sedotte Adamo ed Eva quindi banate bene siccome il seduttore il serpente antico sa come sedurci nei nostri punti deboli voi dovete fare attenzione dovete stare attenti a dove andate in giro cosa leggete cosa ascoltate se siete in grado di discernere se le persone che parla e scrive è da Dio oppure no se si attiene a quello che è scritto nella parola dovete imparare a discernere voi siete liberi ma attenzione c'è del rischio il rischio lo dovete mettere in conto quindi fate attenzione dovete massima attenzione come camminare se non siete sicuri di dove siete che state ascoltando o se state leggendo qualcosa è come camminare in un campo minato potete saltare da un momento all'altro perché vi può fare un discorso che vi seduce e voi rimanete ingannati e quello può produrre un effetto negativo nella vostra vita capite quindi attenzione che credere nelle credere nelle false dottrine non è che non produce niente produce dei danni produce dei danni enormi capite nella vita spirituale nella condotta nel comportamento che noi abbiamo nel pensare nel provare i sentimenti può provocare dei danni spirituali anche gravi talvolta vi faccio un esempio voi sapete che non ci si può risposare no? cioè se uno è sposato anche se divorzia cioè la separazione secondo le scritture è concessa è ammessa ma non è ammesso il risposarsi se uno ti insegna e purtroppo sono molte le vittime di questo insegnamento ma se ti insegnano che tu ti puoi risposare ti stanno seducendo ti stanno inducendo a peccare poi certo uno ha sempre la possibilità di chiedere perdono a Dio e misericordioso va bene però sei stato sedotto capite? e ti hanno indotto gli altri a sbagliare non sei stato prudente non conoscevi la somma della parola non ti sei attenuto strettamente alla letteralità della parola oppure addirittura per mancanza di conoscenza tu non conoscevi la Bibbia non conoscevi niente e hai pagato quello che e ne paghi poi le conseguenze capite? chi sbaglia ne paga le conseguenze anche Mosè benché parlasse con Dio come un uomo parla con il suo amico sbagliò a parlare non si attenne strettamente alle parole che Dio gli disse Dio gli disse parla alla roccia ed essa ti scatturirà dell'acqua Mosè cosa fece? ha percosso la roccia due volte quindi non ha parlato alla roccia ha percosso vedete ha sbagliato e Dio lo ha punito non lo ha fatto entrare nella terra promessa benché lo chiedesse e lo supplicasse e stiamo parlando di Mosè quindi attenzione tutte queste cose vi dico ve le dico perché così voi dovete arrivare a maturità spiritualmente dovete diventare essere maturi e nessuno può ingannarvi e quindi voi dovete portare abbondanza di frutto e nessuno vi potrà sviare né a destra né a sinistra questo è il senso di quello delle cose che vi sto dicendo vi sto dando degli strumenti affinché voi possiate crescere spiritualmente maturare per portare abbondanza di frutto a Dio e allora possiamo citare un altro esempio nel Nuovo Testamento torniamo al Nuovo Testamento i farisei leggiamo un passo dove i farisei ce ne sono tanti altri poi quando voi leggerete vi ricordate mettete insieme collegate tutte le cose assieme e vedrete che troverete altri esempi troverete altri passi che vi fanno ragionare in questa direzione secondo quello che vi sto esponendo Marco i farisei e la tradizione leggiamo dal versetto 9 7,9 di Marco e diceva loro ancora come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra Mosè infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre e madre si è punito di morte voi invece se uno dice a suo padre o da sua madre quello con cui potrei assisterti e corban vale a dire offerta a Dio non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata e di cose consimili ne fate tante vedete i farisei volevano i soldi guardate che vi ho preso questo esempio proprio perché oggi avviene in questa maniera come avveniva ai tempi di ai tempi di Gesù il comando onora tuo padre e tua madre è valido ancora per oggi non è cessato questo è valido anche sotto la grazia se il padre e la madre hanno bisogno bisogna assisterli i figli devono assistere i propri genitori sono obbligati invece cosa ti dicono oggi no ma tu non sei obbligato tu sei obbligato a dare la decima sei obbligato a dare le offerte in comunità ma non sei obbligato ad aiutare i poveri non sei obbligato ad aiutare i tuoi genitori oppure anche al contrario cioè i genitori non sono obbligati ad aiutare i figli che magari ha perso il lavoro non ha il lavoro ma non è così questi annullano il comando noi adesso prendiamo in considerazione l'aiutare i genitori perché perché c'è il comando specifico no che c'è scritto onora tuo padre tua madre è un comandamento non importa quanti soldi tu tu dai quanti soldi dai alla comunità al locale di culto al pastore se tuo padre tua madre poi ha bisogno ha necessità non ha di che mangiare tu sei obbligato ad aiutarlo capite non è che ne puoi fare a meno ah no ma io quello che potevo dare come poi abbiamo letto così si giustificavano i farisei per annullare il comandamento di Dio e non permettere ai figli di aiutare i genitori cioè convogliavano il denaro e le offerte e gli aiuti verso una direzione e la toglievano ai genitori cioè gli toglievano l'obbligo praticamente cioè mentre Dio col comando metteva l'obbligo obbligava legava i figli ai genitori e li obbligava ad aiutarli i farisei con una loro invenzione quindi non si sono attenuti alla letteralità del comando del comandamento di Dio che addirittura è nel decalogo quindi è ancora più importante per annullare quel comandamento si sono inventati hanno aggiunto hanno tolto per togliere eliminare l'obbligo di aiutare i genitori no ma se tu dici che l'offerta che hai la offri al tempio la offri che ne so ai leviti la offri dai la decima offri a Dio in un altro modo tu non sei più obbligato non sei più obbligato nei confronti dei tuoi genitori e questo non è vero perché il comando rimane quello che non va bene è quello che non va bene quello che si sono inventati i farisei e che si sono inventati anche i farisei moderni è quello di togliere l'obbligo che un figlio ha nei confronti dei genitori l'obbligo che un parente ha con l'altro di aiutare o anche i poveri in genere l'obbligo non lo può togliere né i farisei di allora e neanche può essere tolto dai predicatori di oggi che siccome vogliono che tu porti il denaro totalmente tutte le offerte le decime le porti a loro perché vogliono il tuo denaro devono togliere per fare ciò ecco che cercano di annullare l'obbligo che uno ha di aiutare i poveri di aiutare i genitori e di aiutare in genere i poveri che hanno vicini capite ma il senso è sempre quello annullare il comandamento di Dio che ordina di aiutare i poveri per incassare loro capite quindi vedete come agiscono vedete come agiscono i falsi i seduttori di menti i cianciatori i falsi dottori prendono un passo e lo annullano e lo sostituiscono con un altro loro concetto che gli serve quel concetto lo mettono lì perché a loro serve quello ci guadagnano con quello e devono annullare il comandamento di Dio queste cose avvengono ancora oggi guardate bene avvengono ancora oggi quindi abbiamo visto fratelli e sorelle ci accingiamo ad arrivare alla conclusione e vi ricordo che vi dovete attenere strettamente alla letteralità della parola nello studio della Bibbia e vi dovete attenere anche alla somma della parola quindi non giungete a conclusioni affrettate da una parte della scrittura se non conoscete tutte le altre parti capite bisogna prenderla nella somma della parola quindi per arrivare a una certa dottrina a credere in una certa cosa questo è importante perché purtroppo oggi ci sono molti seduttori di menti che vengono anche dicono hanno ricevuto una rivelazione da Dio una visione un sogno una profezia e vi dicono qualcosa che o non è scritta e comunque anche se non è scritta noi non la dobbiamo accettare perché Paolo dice non dobbiamo andare oltre a quello che è scritto non dobbiamo andare fuori oltre non dobbiamo superare la linea quindi chi ha ricevuto rivelazioni che non sono nella scrittura o addirittura ha ricevuto rivelazioni o interpretazioni che sono contrarie a comandamenti che sono scritti nella Bibbia questi non vanno accettati bisogna bisogna rigettarli assolutamente tenerli lontani da noi poi ricordatevi di studiare costantemente le sacre scritture e anche di pregare costantemente chiedendo a Dio la guida la guida per poter intendere ciò che sta scritto nella sua parola e lo Spirito Santo se noi siamo in comunione con Dio noi se siamo in comunione con Dio quindi preghiamo e leggiamo e ci conduciamo in un certo modo in maniera degna dell'Evangelo se ci conduciamo in questa maniera e facciamo tutte le altre cose lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità come è scritto poi è scritto e lo Spirito Santo ci guida ci dà intendimento e sapienza per capire la verità della parola per tutto quello che esce fuori dalla parola fate attenzione rigettate rigettate tutto quello che non è da Dio e questo era il messaggio che mi sentivo di darvi questa sera a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén